Con voi Martino Ciano per le notizie del giorno. In Calabria l'alleanza Movimento 5 Stelle e PD crolla nelle regionali in Umbria e ciò apre il dibattito anche in Calabria in vista delle elezioni. Ne abbiamo parlato con Walter Nocito nel corso di Terra e Fuoco. L'intervista è riascoltabile su www.radiodgs.net e il canale YouTube. A Grisolì ha nuove proposte dal gruppo Agora di cui è stato promotore Nuccio Di Gioia per una lista unica in vista del rinnovo del Consiglio Comunale. Ai nostri microfoni l'esponente dell'Associazione Calabria Nuova in compagnia di Luigi Campagna ha espresso soddisfazione per il risultato degli incontri. Ancora nulla di definitivo ma siamo sulla buona strada. A Paola Rubati nella notte tra sabato e domenica i fari LED che illuminavano il parco giochi per bambini di Viale dei Giardini installati per volontà del Presidente del Consiglio di Paola Graziano Di Natale che aveva rinunciato alla propria indennità di funzione per la realizzazione dell'illuminazione. Un atto vile ha commentato Di Natale visto che il parco è stato intitolato alla memoria di due giovani scomparsi prematuramente in un incidente stradale. A Cetraro il sindaco Angelo Aita ha dichiarato che il comune chiederà il risarcimento d'anni ad ecologia oggi la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il primo cittadino su tutte le furie visto che non è stata garantita la pulizia dell'area dove sabato si è tenuto il mercato. Si conclude per il liceo Metastasio di Scalea la prima esperienza del progetto Intercultura Scambio Classi. Ripenso scrive la dirigente scolastica Laura Tancredi alle fasi iniziali del progetto in cui con la funzione strumentale dell'indirizzo linguistico e lo staff abbiamo aderito all'iniziativa consapevoli di andare incontro ad una novità che avrebbe arricchito di valore aggiunto l'esperienza scolastica dei nostri alunni ma che presentava anche una libertà organizzativa di cui non avevamo ancora sufficiente esperienza. Ma l'entusiasmo ci ha sempre accompagnato e sostenuto perché il desiderio di offrire agli alunni e a tutta la comunità scolastica un'esperienza di ampliamento dell'offerta formativa è stato maggiore del senso di incertezza per la novità. È tutto, grazie per averci seguito.